ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare rai maxi dal case oggi mi trovo in viasco lipiceno 19 e ti presento l'appartamento appena ristrutturato come nuovo al terzo ed ultimo piano la caratteristica di questa palazzina è che tutta la quanta la palazzina è stata completamente ristrutturata e in classe energetica d è stato installato anche l'ascensore esterno e questo appartamento è l'unico della palazzina che ha riscaldamento a pavimento e i condizionatori a pompa di calore già installati quando si entra in questa zona giorno molto comoda che affaccia verso ovest questo è il balcone eccolo qui comodo mettere un tavolino per due persone gli attacchi dei condizionatori della lavatrice e della caldaia la faccio da questa parte è molto aperto il tramonto è proprio da questo lato il resto dell'appartamento si raggiunge percorrendo questo disimpegno questo qui è la zona cottura finestrata che affaccia sul viasco lipiceno eccola qui il bagno che è comodo è cieco ma all'ariatore ha un piatto toccia molto comodo entrambi i sanitari e lo spazio per il lavabo questa invece con la porta scorrevole è una camera da letto gli attacchi per la luce e eventualmente i comodini attacchi per la tv e la faccio a est verso il viasco lipiceno come vedete essendo l'ultimo piano ha molta luce la faccio abbastanza aperto e come ripeto appartamento è completamente nuovo ma semplicemente personalizzato in base a quelle che sono le tue esigenze contattami e vieni a visitarlo ci sono anche altri immobili nello stesso stabile per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace